Ma io, dobbiamo ritornare a secondi ghiando e facciamo a prendere tutti quelli che ho dovuto. A chi dobbiamo ammazzare? Sulla piazza nuova. Ragazzi, prendete le bocca. Ma che fai? E non dobbiamo ammazzare pezzi da 90. Ma quello ci aveva 70 anni. Non ho capito, ti stai mettendo paura. Fai schifo! Che stai a capire, dammi tutto teso! Ti stai tirando indietro. Fai schifo! Fai schifo! Stop! Don vie, che gente ci sta prendendo per culo, non è colpa no. Conosci Serafina, lavora al circo. Mi sembri Jessica Rabbit da scapile. A me vorrei una cosa a me fa con sti comorrogli. Portatemi a capecchista! Che stai a capire? Io non voglio fare più figure in me. Tenete la buona ammenda. La ricordo come dicevo papà. Mi raccomando, non fate tardi, sennò vi faccio truicchiavare da porto. Le autorità potrebbero sospendere la serie. Quanti giorni dobbiamo rimanere sotto scorta? Ridateci i comorrogli! Si sa nell'ambiente che tu sei un tomber de fama. No, 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 chiavettiere. Ai capuccio! Ti ricordo come dicevo papà? Questa casa non è un albergo. Ma tu ti ricordi a papà, sì. Punta l'autopera! Voi siete supereroi. Siete indistruttibili. Voi siete la salvezza dalla gente. Ma che cos'è? Ti stai mettendo la paura? Ti vuoi tirare indietro? Ombi, ma perché quando parlate vi mettete sempre la mano qua? È perché... È perché se la tolgo ma esce sta voce in merda!